perfetto, GitHub Actions your new friend out of the box iniziamo questo nuovo argomento le GitHub Actions che sono una nuova feature messa a disposizione da GitHub di cui voglio parlarvi questa sera perché le ho provate ed è una cosa abbastanza carina e interessante da approfondire chi sono io? mi chiamo Marco Liberati il mio handle twitter è DJ611 e lavoro per Elastic in particolare il prodotto Kibana dove lavoro su grafici editor per grafici report, dashboard, tutte queste cose le tecnologie che utilizzo tutti i giorni e anche per progetti a parte quelli del lavoro sono JavaScript, TypeScript e Node.js ma non induggiamo oltre andiamo direttamente per l'agenda quindi le GitHub Actions vi farò una brevissima introduzione veramente cinque minuti riguardo cosa sono come funziona un po' il meccanismo sia pratico che a livello come funziona l'economia delle GitHub Actions poi proseguendo per qualche esempio approfondimento su varie definizioni di Actions e Events ed infine andremo a vedere qualcosa di un po' più complesso dei soliti test, l'inter e deployment perfetto, iniziamo dalle basi cosa sono le GitHub Actions? io all'inizio pensavo fosse un qualcosa di abbastanza complesso effettivamente perché da fuori si vede solo quel tab Actions sul vostro repository ma effettivamente sono un'applicazione che gestisce virtual machine all'interno di queste virtual machine potete usare container docker come fate con altri servizi l'intera infrastruttura è basata su Microsoft Azure quindi l'hosting delle virtual machine e allo stesso tempo tutti i job runner sono gestiti da effettivamente un fork di Azure Pipeline Agent per quel che riguarda il supporto le GitHub Actions gestiscono qualsiasi sistema operativo e come altri servizi simili tipo BitPacket, Pipeline GitLab Actions eccetera è basato workflow diciamo un flusso GitHub Actions è basato su un file YAML il che è abbastanza comodo su GitHub perché spesso per cose semplici è possibile fare l'editing del file direttamente dentro l'interfaccia di GitHub e poi fare il commit direttamente in sede e vedere l'effetto istantaneamente altra opzione molto carina è il self hosting poiché essendo un'applicazione effettivamente voi potete scaricarla è open source potete scaricarla installarla sulla vostra infrastruttura e a quel punto ovviamente la gestione dell'hardware dei sistemi è a carico vostro però potete utilizzare tutte le funzionalità del GitHub Actions ma su una vostra infrastruttura interna o su un altro cloud se volete quindi AWS Google Cloud eccetera passiamo direttamente alle cose concrete quanto potete usare queste GitHub Actions le GitHub Actions grossomodo se avete già usato sistemi simili anche Jenkins avete questi job che corrono per un tot di tempo per cui GitHub ha deciso di esprimere i limiti le soglie di utilizzo in base appunto a minuti per mese e storage e questi variano a seconda del vostro account l'account free è abbastanza generoso con 2000 minuti spiegherò perché secondo me è abbastanza generoso in seguito però vedete che grossomodo varia da 2000 a 3000 minuti al mese a parte insomma Google Enterprise Cloud dove si viaggia sui 50.000 minuti al mese importante da notare qui si parla di minuti per account non per repository io ci ero cascato all'inizio poi dopo diciamo sperimentando ho notato questa sottile distinzione e per quel che riguarda invece lo sforamento di queste soglie si parla di una tariffa per minuto che è così riportata vedete che il Mac ha un fattore moltiplicativo di 10 rispetto al Linux e questo si riflette anche nei prezzi quindi da 8 millesimi di dollaro a 8 centesimi è la differenza tra Linux e Mac OS nella tariffa per minuto ovviamente tutto questo che dico si applica per la versione in cloud quindi la versione GitHub che avete visto perché se fate self hosting l'infrastruttura è vostra lo usate quanto vi pare e gli aggiornamenti li rilascia GitHub e quindi potete aggiornare l'applicazione senza preoccuparvi di queste cose ma passiamo a qualcosa di un po' più pratico iniziamo a spiegare un pochino come si fa per chi ancora per chi non è diciamo pratico di queste cose una GitHub Action è di fatto un flusso di lavoro contenuto in un file e questo file contiene una serie di jobs quindi lavori da compiere diciamo task più grandi da compiere ogni task come potete immaginare è costituito da più step e l'infrastruttura di GitHub Action crea un'istanza di un runner per cui per ogni job crea un runner che esegue tutte queste azioni e salva questi log a questo punto voi potete avere più job all'interno di un unico flusso di lavoro e questi vanno in parallelo ovviamente i minuti si contano nel totale tutti i minuti del runner uno più i minuti del runner due ad innescare tutto questo c'è un evento che è una definizione abbastanza ampia in questo caso delle GitHub Actions un evento che viene ricevuto dall'infrastruttura e questa vede quale job è associato con quell'evento e li lancia quindi il concetto anche a livello di architettura è anche abbastanza semplice nella sua nel suo essere così generico vediamo qualcosa di pratico come una una GitHub Actions diciamo pronta all'uso prima cosa da fare è creare un file yaml io lo chiamerò ci nel mio caso ci.yaml e lo metterò nella cartella .github slash workflows e GitHub sa già che cos'è quella cartella quindi quando trovo un file yaml lì per lui è una GitHub Action in particolare scriverò questo file qui di questa Action qui mostrata e la chiamerò MyCI si attiverà con un evento push vedete c'è la keyword on a fianco e push che ho scritto in questo caso così a fianco vedete che c'è anche il formato con le parentesi quadre e quindi ho un unico job chiamato MyCI e posso scrivere come far apparire il nome su sull'interfaccia di GitHub nel pannello appunto Actions del repository di GitHub e in questo caso è CI CD Workflow esprimo come voglio la mia virtual machine e quindi una serie di step scarica il codice installa i moduli esegui l'inter e poi esegui i test infine faccio un qualcosa di anche se uso now sh faccio un qualcosa di un po' più interessante per cui uso un comando un po' più complicato per mostrare come usare variabili d'ambiente come passare argomenti eccetera e vedete che nel caso le variabili d'ambiente vanno sono valutate dinamicamente per cui esiste questo GitHub questo secrets che spiegherò in seguito cosa sono quindi vengono compilate poi a runtime e da lì potete pescare informazioni che poi utilizzerete nel vostro comando quindi tutto questo che vedete è una GitHub Action effettivamente è una GitHub Action che utilizzo quindi è un qualcosa di semplice funzionale che anche io riesco a configurare di solito mi c'impicco su questi servizi quindi spieghiamo passo passo il discorso step e azioni ogni step può utilizzare un'azione ora se torniamo indietro un secondo vedete in alcuni casi io uso run per esprimere un comando della shell in altri casi uso la keyword uses e nel caso di uses posso esprimere una sorta di dipendenza su un'altra action e queste dipendenze sono di solito nel formato autore o account slash nome dell'azione e poi una versione per cui esattamente come una dipendenza queste azioni sono pubblicate sul marketplace di GitHub ne esistono diverse e queste azioni possono ricevere i parametri sia in input che produrre parametri in output esiste esiste un file manifest dove si si scrive cosa si vuole in input e cosa produce in output non tutte ce l'hanno la mia esperienza solo una volta ne ho trovata una che ce l'aveva tutte le altre hanno anche lavorato con variabili di ambiente come parametro di input che non è una bella cosa però utilizzano questo sistema nel caso dell'output potete immaginare che non è così banale ripescare cosa ha prodotto un'azione perché è così lontano diciamo dal comando e GitHub si è inventato questo formato per cui genera una sorta di di JSON vedetelo un po' come JSON in cui quando un'azione produce un output viene scritto in questo steps questo oggetto steps quindi c'è un ID l'ID è possibile definirlo come name o uses che vedete sopra quindi voi scrivete ID quello che vi pare ID checkout nel caso sopra a questo punto outputs e il nome della variabile il nome della variabile lo vedete dalla documentazione del file manifest dell'azione per quel che riguarda invece gli eventi la definizione di evento per le GitHub Actions è molto ampio a parte gli eventi Git classici commit push pull request tag abbiamo anche eventi di tipo repository quindi watch fork issues created eccetera ma abbiamo anche eventi manuali per cui posso utilizzare la GitHub API o webbook per innescare una GitHub Action allo stesso modo hanno pensato di inserirci Chrome Job per cui posso configurare un Chrome Job direttamente dentro la GitHub Action oppure posso orchestrare GitHub Action in base allo stato di altre GitHub Action quindi posso far scattare ad esempio un action che altre due o tre hanno completato il loro lavoro e magari leggere dal loro stato in qualche modo il marketplace è diciamo l'idea secondo me più intelligente riguardo questo GitHub perché quello che hanno pensato è stato rendere il flusso di creazione di una GitHub Action il più semplice possibile infatti il marketplace è strapieno di azioni c'è stato proprio un boom negli ultimi mesi perché tutto quello che ti serve per creare un'azione di fatto è un repository GitHub all'interno di questo repository puoi creare un file action YAML nella root del progetto e a quel punto GitHub sa automaticamente che quella è un'azione è una GitHub Action e quindi ti propone il banner che vedete qua sopra quando cliccate su draft release vi porta su un percorso diciamo simile alle release classiche di GitHub ma con un percorso ad hoc per il marketplace di GitHub Action e una volta che l'avete completato chiunque visiterà il vostro sito vedrà questo banner che riporta con un link che porta alla vostra pagina sul marketplace inoltre ovviamente essendo un marketplace c'è il search in cui ci sono i tags eccetera e chi cerca una funzionalità che voi avete già affrontato troverà la vostra azione quindi è molto molto semplice e un'azione può essere minimale può essere uno script veramente passiamo a qualcosa di un po' più complesso diciamo prima abbiamo affrontato una cosa semplice l'inter test deployment a volte quello che vogliamo fare è un po' più complesso magari di quello e vogliamo magari ripescare dati che c'è da in uno step ripescarli un po' più tardi e ci sono vari modi per farlo uno dei tanti modi è passare tramite un file per cui si scrive l'output di un'azione o meglio di un comando su file che poi verrà ripescato dallo step successivo quindi riprendo un'azione simile a quella che abbiamo visto poco fa in questo caso la chiamerò lighthouse CI vedete che viene scatenata dalla creazione di una pull request utilizza sempre Ubuntu e la prima cosa che faccio è fare un deployment la mia idea di questo flusso era ho un progetto chiunque mi genera una nuova pull request voglio che avvenga un deployment specifico con un url specifico per quel pr e a questo punto ci faccio girare lighthouse sopra raccolgo delle metriche e poi pubblico il json con tutte le metriche di lighthouse da qualche parte quindi se vedete il comando di now è abbastanza simile a quello di prima e se ne va la barra cambia solamente l'ultima riga in cui faccio l'output di now deploy me lo salvo in deployment url perché faccio questo perché now deploy produce un url univoco che io poi utilizzerò per fare l'alias ovvero come vedete qui c'è il comando now alias e che utilizza con c'è un comando cat qui che grosso modo è stampami il contenuto di questo file però come argomento di now alias e vedete che utilizzo la valutazione dinamica quindi utilizzando l'oggetto github che è il json che github invia anche alle altre a jenkins circle ci e gli altri è un json che ottiene lo stato serializzato del per quel particolare commit per quella particolare pure quest branch e in base a quello io mi faccio un url specifico che uso come alias per l'url univoco di prima a questo punto utilizzo un'azione chiamata lighthouse ci action è poco di più di un effettivamente un tirare su puppeteer configurarlo per lighthouse e lanciarlo semplicemente mi volevo risparmiare qualche riga e vedete che gli passo un input che è urls qui vedete utilizzo la parola chiave with cui ho parlato prima e poi come url gli passo i due url che ho fatto che ho generato dinamicamente a questo punto i risultati di quell'azione me li vado a salvare come lighthouse results aspettiamo un secondo che se ne va via la barra come lighthouse results me li salvo come file json all'interno dell'azione per cui su github quando aprirò il pannello esecuzione x ci sarà allegato a questa esecuzione e ci sarà il mio file json e tutto questo vedete in abbastanza poche righe in realtà esiste un'azione che ti fa quasi tutto questo ma non sopportava now quindi era bellissimo perché tu gli scrivevi i due url che ho scritto qui e lui faceva tutto però non sopportava now per cui ho detto ok visto che sembra facile da usare proviamo a scriverla da zero questa azione effettivamente ci sono riuscito con un numero decente di righe è anche facile da mantenere diciamo quindi perfetto abbiamo fatto la nostra azione un po' più complicata leggendo l'input ovviamente non tutto è così capisco che ci sono flussi un po' più complessi di questi in particolare il discorso credenziali qui c'è l'oggetto secrets che avete notato anche prima con il token di ZEIT da dove viene questo secret questo secret è dentro github c'è una sezione di sicurezza dove già salvate il vostro ssh secret e adesso è stata estesa per contenere questo questi altri segreti che voi potete recuperare tramite le github action quindi già salvate cose segrete su github e potete salvarne altre se volete quindi ripescarle da qui e se invece volete fare caching c'è una documentazione caching dei moduli quindi senza rifare l'installazione da zero e riscaricare tutto c'è un'azione per questo per cui potete semplicemente copiare e incollare questo step che vi ho messo qui e lui riutilizza la cache come fanno tanti altri sistemi di pipeline in giro tra l'altro il formato è anche abbastanza simile la cosa un po' diciamo più particolare è il testing come tutte queste situazioni essendo in cloud si ha una visibilità parziale di quello che succede per cui quelli di github hanno pensato a un flag particolare che abilita un log un pochino più lungo del solito e tante volte da mia esperienza il problema è anche lo script che magari non viene testato bene con l'input che poi proviamo sull'action quindi non necessariamente il problema è fare testing sull'ambiente delle github action ma se fosse il problema dell'ambiente esiste questo strumento chiamato act che grossomodo simula l'ambiente del github action perché dico grossomodo perché in realtà quello che quello che succede è che tira su un ambiente docker che simula quella cosa ma effettivamente l'immagine la vm di github action mi pare che è 18 giga per cui per caricare tutti i possibili ambienti eccetera per cui loro se lo risparmiano e ti danno una versione limitata ti spiegano tutte le limitazioni e ti spiegano anche come usare docker se avete action con container quindi io l'ho provato andava bene per alcune cose ai suoi limiti però diciamo è un accorocchio che funziona chiamiamolo così ok ho parlato abbastanza diciamo dando un po' di informazioni riguardo github action ho pensato di mettere un momento di di pausa per cercare di condensare queste queste informazioni e volevo semplicemente farvi ragionare su questo strumento github offre già altri servizi ok offre pull request issue che sono un po' da soli esiste project che è una sorta di kanban e anche github pages per cui una sorta di server apaci gratis su un branch specifico di git quindi github action si va a inserire in un ambiente che è già abbastanza variegato e supporta out of the box tutti gli eventi legati a questo repository per cui è un qualcosa che riesce un po' a legare tutte queste cose che prima esistevano ma potevate usare solamente con la github api e questo è diciamo di introduzione all'ultima parte di questo talk ovvero come facciamo a spingerci oltre il semplice test and deploy o qualche manipolazione un po' più avanzata di questo paradigma appunto test and deploy quello che vedo fare sempre in jenkins eccetera le github actions di fatto possono eseguire script isolati in node.js da codice preso da repository basato su trigger quindi eventi vi suona un pochino familiare questa cosa a me un pochino sì in particolare mi ha fatto venire in mente il discorso serverless in serverless tu non gestisci effettivamente hardware non gestisci nulla tu scrivi quelle tue funzioni che un evento fanno scattare che vengono fatte partire da un evento e queste eseguono e poi salvano quello che hanno fatto da qualche parte o inviano un altro evento grosso modo è questo l'unico problema è capire come sfruttare le github actions come una lambda spero insomma di essere di aver reso il problema chiaro e poi una volta eseguito dove salviamo la roba e se potessi utilizzare un cron job perché quello che non voglio fare è ogni volta inviare la richiesta io manualmente quindi un cron job va bene lo faccio partire una volta ogni tanto e poi parte lo script che scatena tutta una serie di cose e se quello che produco lo salvassi su repository stesso per cui il problema di storage lo salvo lo posso salvare come allegato all'action ma non ci faccio molto se invece lo salvo su repository posso recuperarlo anche fosse con la github API quindi io ho pensato devo scrivere uno scraper per fare una cosa e uno scraper per definizione ha un task che gira giornalmente o dato insomma una certa cadenza su un tot di pagine l'output che genererà il mio scraper è un json e questo json me lo salvo su repository e a questo punto voglio proprio strafare e costruirmi anche una dashboard tutto questo senza toccare un server quindi non voglio fare non voglio mettere su un hosting da qualche altra parte voglio che github sia il il posto dove io pubblico la mia dashboard ricordatevi che insomma lavorate sempre in node.js non c'è browser non potete tirare su un web browser che è un web server che gira tutto il tempo quindi quello che ho fatto per la dashboard è pensare ok non posso fare svg perché non so che farci con questa svg mi produco delle png e poi vedo dove metterle quindi per produrre una png la prima cosa da fare è avere canvas su node mi installo node.canvas uso una libreria di grafici che supportano node.js e canvas infine per pubblicare la dashboard utilizzo markdown perché github fa rendering del markdown nativamente in ritmi quindi ho messo i grafici su ritmi quello che vedete sotto è l'url di quello che faccio e per darvi un po' un assaggio è grossomodo questo ovvero il ministero dell'interno pubblica i dati dei controlli di polizia per il covid quindi in base agli articoli specifici del dpcm riguardo solamente il covid e a fine marzo ho prodotto questa questo progettino che di fatto giro ormai da sei mesi e ogni giorno va a vedere sul sito del ministero e questo in realtà è un pdf se lo scarica fa il parsing e poi produce dei vari json che vengono salvati su repository stesso e una volta prodotti questi json si fa il esegue un altro script che produce questi grafici questi sono prodotti da una action e sono salvati come png e potete usare questo qr code per andare sul repository e vedere voi stessi e se vi state chiedendo perché qui ci sono questi cosi a zero e me lo sono chiesto anche io e non sono un esperto di web scraping specie per sei mesi qui l'ho fatto e ho scoperto che alcuni pubblicano documenti e poi dopo li modificano successivamente lasciando le date vecchie per cui quello che vedete qua è il primo kit di quel documento primo parsing magari aveva zero dentro e poi dopo l'hanno modificato con i numeri veri quindi adesso dovrò andarmi a fare manualmente aggiustare i numerelli ma lo fanno anche quando non è zero pubblicando un numero e poi dopo lo cambiano così però non cambiano la data del documento vabbè cose che si scoprono facendo site project allora questo web scraper cosa volevo? volevo fare questo site project senza avere spese quello che ho ottenuto è stato un progetto che fa cose e ottengo un alerting perché quando fallisce la GitHub action non trova il documento non trova quella data riescono a pubblicare i documenti con sei differenti formati per le date quindi quando non riesce a fare il parsing di una data mi mandano email eccetera e non ho problemi di storage il JSON va su repository che ho gigabyte di spazio lì l'esecuzione di un action per ogni giorno è 45 secondi un totale di 23 minuti al mese che vuol dire che mi rimane un budget di 1970 minuti al mese che direi è abbastanza e non uso cash non uso niente me ne sono proprio fregato di queste cose e hosting esecuzione dello script tutto mi costa zero euro al mese per avere un'intera piatta uno web scraper che funziona e mi produce cose volendo posso usare il github API per prendermi JSON e sfruttarlo magari per una cosa esterna il codice dell'azione è questo che vedete qua penso mancherà una riga perché è veramente questo vedete che sul parametro on ho messo schedule cron ed è la sintassi esattamente del cron e quello che faccio è grossomodo chiamare questo build questo build esegue tutta una serie di script node.js che scarica il pdf fa il parsing è tutto un unico comando tanto tutta roba in serie e poi faccio il commit and push se voi aprite il mio repository vedete che ogni giorno c'è questo commit data set updated sembra fatto da me perché il commit viene fatto dall'autore del repository e ogni giorno fa questo il che vuol dire che come side effect ho anche una barra un po' più omogenea di commit fatti da me sicuramente o dalla GitHub Action se vedete questi grigi è quando la GitHub Action ha fallito per cui non ha fatto il commit perché non ha recuperato nessuna data se notate un pattern potete vedere che sabato che è questa riga e domenica questa riga i pdf non vengono pubblicati spesso in realtà bisogna aspettare lunedì per avere i dati di venerdì sabato e domenica ok quindi ho detto il mio caso d'uso che è un po' diciamo diverso dal solito ma se volessimo spingerci anche oltre quindi fare qualcosa di ancora più figo solamente con le GitHub Action beh c'è chi ci ha pensato e si è spinto veramente oltre e questo è il progetto Uptime Uptime è un sistema di Uptime Monitoring e pagine di status costruito interamente con le GitHub Action e altri strumenti di GitHub e il progetto parte da un qualcosa simile a quello che ho fatto io ma si spinge nettamente oltre con un qualcosa di fantastico perché dico questo? perché utilizza le GitHub Action come un Uptime Monitor per cui ogni 5 minuti che è il limite inferiore del Chrome Job è un Action visita il vostro sito e controlla se funzioni o meno ogni 6 ore il Response Time è registrato e viene salvato sui repository come faccio io e vengono prodotti dei grafici ogni giorno detto questo cosa fa in più? apre delle issue se il vostro sito è down e se per caso salta o qualsiasi cosa diciamo va giù e poi ritorna subito su chiude anche le issue da solo fa anche tutti assegnamenti vari automatici configurabili e non solo siccome salva il JSON con tutte queste informazioni su repository produce GitHub Pages sfrutta le GitHub Pages per costruire una pagina di status quindi l'hosting lo fa GitHub e mi pare usa svelte Sapper e da questa pagina dinamicamente usa la GitHub API per prendere e leggere JSON quindi proprio una cosa tutto tondo e con questo concludo il mio talk grazie a tutti